buongiorno da btv news oggi 17 novembre santa elisabetta d'ungheria il 17 novembre di ogni anno in tutto il mondo viene celebrata la giornata del gatto nero questo evento è stato creato per aumentare la consapevolezza sulle superstizioni e le credenze negative legate ai gatti neri infatti i gatti neri sono spesso associate la sfortuna la magia nera e il male ma in realtà sono affettuose gioiosi che meritano di essere amati rispettati come tutti gli altri gatti la giornata del gatto nero è un'importante occasione per sensibilizzare le persone sulle superstizioni e le credenze negative l'obiettivo principale è di promuovere l'adozione dei gatti neri ed educare il pubblico sul fatto che i gatti neri sono animali adorabili e che meritano essere amati come qualsiasi altro animale domestico grazie a tutti